Amici telespettatori, buonasera amici di ST Television. Questa sera grande calcio sulla televisione Lamettina di ST Television. La finale di Champions League sta per essere disputata sui campi qui di Lamezia Terme. Questo è sempre per quanto riguarda il torneo Fugia, il calcetto A6. Come vedete le squadre sono schierate a centrocampo davanti al signor Franco Gigliotti che arbitrerà questa partita di finale che si preannuncia spettacolare e piena di tensioni perché abbiamo visto gli allenamenti. Sono giocatori davvero in gamba, molto forti e tecnicamente pubblico delle grandi occasioni qui ai campi di Via Marconi. Con la sigla della Champions League che fa da sottofondo per questa grande partita che tra poco andremo a commentare ed assistere. Qui con la telecamera guidata dal signor Mario De Grazia e la mia umile voce di Pasquale De Sando che vi augura un buon divertimento e tra poco andremo a commentare le fasi di questa partita che si preannuncia vibrante e molto spettacolare.